amici del music italia buon pomeriggio buongiorno buonasera non so quando vedrete questo video comunque io sono albise salerno oggi con noi c'è uno dei finalisti di sanremo giovani uno dei ragazzi della nuova generazione che hanno presentato una canzone a saremo giovani sono arrivati tra gli ultimi a giocarsi la chance non soltanto di vincere la categoria dei giovani ma anche di accedere alla gara dei big che si terrà poi a febbraio con noi grimbaud ciao ciao a tutti ragazzi piacere ciao piacere mio nostro di all music italia la prima volta che tu sei qui con noi giusto sì 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 come stai come stai vivendo questi giorni poco prima della finale mi sto vivendo bene sto diciamo che oscillo tra divano e studio di registrazione per fare le prove quindi mi sto vivendo bene sono molto gasato dai per il 19 non vedo l'ora come ti come ti stai preparando perché hai detto che stai oscillando tra divano e studio di registrazione però in termini prettamente tecnici come ti stai preparando per affrontare questa serata finale beh sicuramente a livello tecnico mi sto preparando a cercare di comunque ovviamente fare una bella performance il 19 a livello tecnico quindi a livello vocale a livello di attitudine insomma sto sto lavorando in quel in quel senso lì diciamo è un'esperienza questa sicuramente che non soltanto ti arricchirà dal punto di vista umano ma soprattutto artistico perché poi noi ricordiamolo ed è inutile nascondersi dietro un dito tu la tua attività diciamo principale quella da cui vivi guadagni e svolgi le tue giornate è quella su twitch però hai deciso di affiancare questa cosa di twitch anche l'attività musicale che in realtà era già iniziata da qualche tempo adesso però hai deciso di farla diventare effettivamente un lavoro sì esattamente queste queste due sfere perché poi sono completamente diverse l'una dall'altra assolutamente sì sono completamente diverse è una sorta di dualismo nel senso che comunque c'è la parte ovviamente grimbaud la parte ironica la parte dove diciamo punto a far divertire la gente a intrattenere i ragazzi anche che mi seguono i ragazzi e ragazzi che mi seguono utilizzando comunque un tono molto ironico scherzoso molto molto comunque sereno e da un certo punto di vista leggero mentre poi c'è la musica invece che è la parte un pochino più introversa che che utilizzo per per insomma esprimere quei lati di me un pochino più deep più profondi tra l'altro hai fatto una canzone per per saremo completamente diversa per esempio dal dal singolo forse fino ad ora più ascoltato della tua della tua carriera breve in questo momento però già piena di soddisfazioni perché noi eravamo abitati a sentirti con ballare adesso arriva questa mamma che è un altro mondo un altro universo questa questa scelta proprio di andare in un'altra direzione rispetto a quella che avevi preso con con ballare che comunque era una bella direzione cioè ti ha dato grandi soddisfazioni guarda non io non ti so rispondere per il semplice fatto che io con la musica sono molto cioè non mi piace neanche classificarmi in un genere cioè a mio a me piace scrivere io potrei fare una canzone rap come potrei fare una canzone pop una canzone country cioè dipende veramente dal mood di quel momento cerco di utilizzare come tratto distintivo magari il mio timbro che spero che possa in qualche modo essere quello il mio tratto distintivo e magari anche i concetti e come li esprimo però a livello di genere veramente potrei fare qualunque cosa cioè mi piace fare qualunque cosa ma dov'è che ti trovi più a tuo agio in mezzo a tutte queste queste cose che ci stai dicendo adesso cioè qual è la cosa che ti piacerebbe di più fare in futuro rap pop qualsiasi altra cosa ma in generale poi pezzi comunque magari le ballate comunque magari con la chitarra o comunque un pochino più tristi oppure i pezzi a tempo la cassa dritta questi due qua i miei due generi preferiti dove di solito preferisco cimentarmi cassa dritta quattro quarti e via andare in buona sosta esattamente il concetto è quello senti io ho fatto un giro sui vari social per capire un attimo come fosse stata presa la tua partecipazione perché sicuramente tra tutti quelli che sono i ragazzi arrivati alla finale di saremo giovani il tuo è un nome che si conosceva già da prima insieme ad altri che ci sono clara santi francesi eccetera eccetera però il tuo provenendo da un mondo completamente diverso ha scatenato la qualsiasi come hai percepito tu tutta questa mole di feedback sono stati alcuni molto negativi altri invece molto positivi tu come l'hai vissuta questa questa cosa? che ringrazio e come dico sempre io ringrazio tantissimo tutte le persone che mi supportano mi stanno vicino e che mi hanno scritto tante cose belle e quelli che mi scrivono cose negative amen cioè il 19 io farò del mio meglio e basta cioè punto solo a fare del bene a crescere personalmente di quello che dice la gente che mi dice cose negative rimangono lì a dirle io canto molto politica questa risposta senti al di là di come andrà questa questa finale che tu possa passare tra i big che tu possa rimanere insomma in questa sfera della finale di saremo giovani che cosa succederà dopo? hai già in mente qualcosa oppure questo è un singolo e poi magari con più tempo a disposizione al di là della gara dei big che potrebbe o non potrebbe arrivare insomma stai già lavorando a qualche altra cosa raccontaci un po' quello che succederà post Sanremo allora sicuramente nel mio piano c'è quello di fare tanta musica a prescindere da da ovviamente sarei felicissimo di andare a Sanremo big sarebbe sarebbe qualcosa di pazzesco però comunque io mi godo l'esperienza delle 19 a prescindere da come vada la sfrutto come un'occasione per crescere che in questo ambito sicuramente ne ho bisogno quindi sfrutterò questa esperienza per avere un bel bagaglio alle spalle e comunque il piano generale è quello di fare tanta musica a prescindere da tutto tanta musica significa album o comunque ti orienterai visto che comunque tu appartieni alla generazione Z quindi è una generazione che ormai gli album li guarda e non li guarda diciamo così ma tu vuoi fare un album o vuoi orientarti su dei singoli e basta? è vero si è un po' persa sta roba degli album un po' nel tempo perché ormai si preferisce tutti i singoli e poi magari alla fine far uscire l'album con già dieci singoli usciti e poi tra i inediti è un po' come se fosse una compilation sì sì esatto esatto però io sono molto fan dell'album cioè anche perché a me piace proprio il concept delle cose il fatto che c'è un filo che leghi le varie cose quindi sono molto fan degli album dico solo questo sono molto fan degli album va bene anche questa risposta politica però si è capito molto lì da quella di prima però politico da grande altro che musica no ti prego rimani su no no ragazzi io ando in Parlamento altro che musica, twitch io ando in Parlamento questa è la triste verità senti ti porterai qualcuno della tua chiamiamola squadra di amicizie che abbiamo anche imparato a conoscere su Twitch, Kokeshi e tutti gli altri c'è qualcuno che verrà con te a Saremo Giovani oppure andrai da solo magari con il tuo staff che si occupa solo ed esclusivamente della tua musica? oddio va la domanda ma io no in realtà comunque portarmi dietro in realtà solo il mio staff per una questione logistica anche però sono sicuro che tutte queste persone saranno lì cioè saranno a casa pronte a supportarmi comunque quindi saranno con me nel cuore diciamo io non vedo l'ora di vedere la reaction che faranno i ragazzi sono però la faranno sicuro senti l'ultima cosa e poi e poi ti saluto ti lascio ti lascio lavorare perché devi fare anche altre altre cose oggi volevo dirti che abbiamo lo stesso tatuaggio sul polso questo qua me ne sono accorto adesso fighissimo non è vero eh sì eh sì assurdo non ho mai beccato una persona che ha lo stesso tatuaggio eh sì tra l'altro credo anche io ce l'ho sul sinistro non so adesso specchiando sinistro eh perfetto quindi abbiamo lo stesso io adesso hai visto figato bello era così giusto per chiudere perché me ne sono accorto mentre parlavo no ma è stato bene a dirvelo apprezzo queste cose cioè quando qualcuno ha qualcosa di simile a me già mi sta simpatico cioè già mi sta più simpatico cioè anche quando vedo una persona alta tipo un metro e novanta perché sono alto un metro e novanta quando vedo qualcuno alto come me mi sta già simpatico così a prescindere io sono un metro e ottantadue ho i capelli castani non bianchi quindi mi dispiace anche io i capelli castani sono tinti eh lo so lo so però Simone ti chiamo ti chiamo Greenbaud perché questo è il tuo nome che userai anche per la finale di Saremo Giovani anche per facilità per tutti quelli che stanno guardando l'intervista Greenbaud grazie grazie mille per essere stato qui con noi per la prima volta ma io sono convinto e anche se non ne sono convinto comunque ti obbligherò ad essere ospite altre volte qui sul Music Italia sappilo quando vuoi quando vuoi mando un messaggino fammi vedere il tatuaggio esatto va bene Simone grazie grazie mille ti auguro un grossissimo in bocca al lupo spero che tutto vada per come tu te l'aspetti e in bocca al lupo ancora grazie mille grazie mille un saluto a te e a tutti voi ciao ciao